Più che grande manifestazione, importante manifestazione, perché la presenza sarà simbolica, nel senso saremo presenti in diversi, con ruoli importanti, sicuramente ci saremo come amministrazione, con la nostra giunta, con i nostri consigli di maggioranza, con esponenti di questa esperienza napoletana, con militanti. No, non c'è stata risposta a quella lettera, ci sono una serie di interlocuzioni, lo voglio chiarire, questa non è una dichiarazione di guerra al governo, si è interrotto il dialogo del governo, il dialogo c'è, ma noi non possiamo più attendere che i risultati non arrivino, il dialogo è importante, il dialogo in democrazia è fondamentale, con questo governo abbiamo cooperato bene, ma viviamo con una profonda ingiustizia intollerabile e inaccettabile che le nostre casse siano nuovamente bloccate. Questo non lo tolleriamo più, quindi noi in questo momento iniziamo una fase di lotta, che è una fase di lotta seria per i diritti, per la giustizia, per questa città, rimoduleremo le nostre azioni di lotta nel momento in cui cesserà questa ingiustizia. E poi metteremo in campo in una campagna elettorale vuota di contenuti, in cui non si parla dei problemi veri del Paese, quello che è il problema dei problemi, il debito. E nessuna forza politica riesce ad affrontare con nettezza il tema del debito, che cosa comporta ai nostri territori, ai diritti, ai bisogni di tutti gli abitanti della nostra Italia da Lampedusa a Bolzano. Questo è un tema forte, ma questo è di carattere generale. Invece il tema di cosiddetto UTA e CR8, cioè noi ci vogliono far crollare, pensate un po', su un debito dell'81 post terremoto, quando io avevo 13 anni, e sul debito che la politica della munnezza di questa città ha inferto ai nostri territori. Quindi non solo abbiamo pagato quell'umiliazione, oggi noi, che siamo quelli che abbiamo tolto i rifiuti, eliminato i rifiuti della politica anche di questa città, oggi ne dobbiamo pagare le sofferenze finanziarie ed economiche. Quindi basta, con questo segnale simbolico vogliamo dire basta, che la pazienza ha un limite e che noi siamo molto umili nelle nostre lotte, ma molto determinati e che nessuno sottovaluti la città di Napoli, la nostra forza, la nostra autonomia e il nostro coraggio. Noi non ci fermeremo mai e non consentiremo a nessuno di interrompere in modo ingiusto questo grande processo di cambiamento che viene da sud. Lei ha parlato di melina istituzionale nel posto stamattina, ma teme che ci sia proprio questa volontà, visto che a breve ormai si vuota, diciamo del voler passare la palla a chi verrà dopo? Io penso che ci sia la volontà di metterci il piombo sulle ali. Io penso che c'è una volontà forte nel paese, che non è solo politica istituzionale ma anche economico finanziaria e forse anche altro, a cui dà molto fastidio il riscatto di Napoli, che questo riscatto avvenga attraverso il suo popolo, che questo riscatto avvenga attraverso un'amministrazione che non è omologata nel sistema dei partiti, che in sette anni non siamo crollati nonostante hanno fatto di tutto per farci crollare, che ci siamo conquistati una credibilità istituzionale nel rispetto delle altre istituzioni, ma che non abbiamo mai ceduto nei nostri ideali e nella nostra forza e nella nostra autonomia. Adesso mancano tre anni alla fine del nostro mandato, ne abbiamo fatto sette. Noi non accettiamo più di essere compressi da vincoli finanziari e gabbie normative. Questa del blocco della Cassa è un'ingiustizia che non viene rimossa per volontà. E siccome non vogliamo che il legittimo sospetto diventi certezza, alziamo il livello di mobilitazione. Lo sapremo subito. Se questa è una melina alla quale qualcuno vuole portarla all'infinito, senza che la partita finisca mai, noi mettiamo in campo un contropiede efficace. Mettiamo in campo l'azione che il Napoli ha messo in campo nel secondo tempo contro la Lazio. Mettiamola in questo modo.